ciao sono erico lucioli in questo video rispondo a chi di voi mi ha chiesto se è vero che è possibile liberarsi quando per esempio abbiamo i polsi infascettati questa è una fascetta medio grande di quelle da elettricista e siccome è successo anche vicino dove abitiamo noi il caso di una persona che ha avuto dei ladri in casa ed è stata poi legata con delle fascette facciamo vedere uno dei modi con cui è possibile liberarsi qualora le braccia siano svincolate da un altro oggetto perché ovvio che se sono infascettato magari a un paletto la cosa è un po più complessa ma tipico scenario da film americano mi mettono le fascette mi sbattono nel baule della macchina c'è il modo di potersi liberare non è facile serve allenamento però ti mostro come ci si può allenare per riuscire a fare questa cosa allora di base immaginiamo che abbia infascettato lui ai polsi ok anzi senza immaginarlo lo facciamo proprio davvero ok ora lui ha le fascette molto strette ed è impossibile liberarsi di base tirando semplicemente con le braccia quello che dobbiamo fare per rompere le fascette non è tirare con le braccia ma usare tutti i muscoli del corpo riusciamo a fare questa cosa portando le braccia sopra la testa quindi scrollando bene le spalle distendendo bene gli addominali e a questo punto tiriamo indietro il sedere ci abbassiamo nelle gambe di colpo e facciamo scorrere i gomiti vicino ai fianchi in modo che si dividano davanti alla pancia è molto importante non arrivare di piatto così perché non libererò niente ed è molto importante che non siano solo le mani che tirano indietro deve essere un'azione svolta sia dagli addominali dai dorsali che dalle gambe è la somma di tutti i muscoli che è sufficiente per rompere la fascetta e non solo il fatto che la faccia sbattere contro la mia pancia quindi lo faccio rivedere io una volta a vuoto e poi lo mostriamo con le fascette tiro su bene le spalle posso fare anche lasciarmi cadere proprio nei piedi e fare questo questo mi permette di generare abbastanza spinta da rompere anche le fascette più grosse le uniche che non riuscirai a rompere sono quelle metalliche non che sono quelle metalliche ti dico già che sono quelle proprio super professionali a fascia larga non è possibile neanche se sei fortissimo lì bisogna per forza tagliare ma le fascette elettriche lo scotch il nastro isolante quello da carrozziere si può liberare in questo modo l'importante è che tu abbia svincolate le braccia da il potenziale oggetto perché altrimenti diciamo se è attaccato una ringhiera quello non c'è modo poi provare a rosicchiarle o sfregarle contro ma non è possibile liberarsi diversamente vediamolo in azione quindi c'è la fase di caricamento e poi giù e le fascette esplodono ok è proprio un'esplosione perché c'è abbastanza potenza adesso magari non si vede in camera però qualora si riesca a vedere qui manca proprio completamente il pezzo che serviva per chiudere non c'è più niente se proprio si spacca la plastica c'è abbastanza potenza nel corpo le facciamo rivedere un'ultima volta quindi richiudiamo un corpo umano allenato abbastanza potenza per rompere anche due o tre di queste fascette contemporaneamente messe facciamo vedere di lato l'importante è carico bene tiro sulle spalle poi movimento secco giù e semplicemente di nuovo questi sono i due risultati vedi completamente esploso non c'è più la parte alta della fascetta la stessa cosa ripeto si può fare anche con lo scotch o con il nastro isolante funziona sempre uguale serve un po di allenamento cosa ti consiglio di fare se ci vuoi provare parti con delle fascette più piccole queste sono medio grandi le puoi anche mettere insieme cioè mi sono preparato qui per farti vedere come allenarti queste sono delle fascette piccoline ok quindi sono la versione cintura gialla che mi voglio liberare le incastro una nell'altra in questo modo riesco a creare come vedi una struttura sufficientemente lunga una volta che ho fatto questo mi faccio infascettare i polsi e così riesco ad avere una fascetta che anche non so se si vede visivamente in camera però questa è il doppio dell'altra come dimensione ma quello che fa la differenza è la dimensione della plastica del blocco che c'è qui ok è quella che cambia radicalmente tra una e l'altra lui ovviamente si libera uguale a prima quindi carica verso l'alto e poi tirando le fa esplodere poi man mano che ci prendo confidenza posso farlo con questo posso farlo con lo scotch carta posso farlo con il nastro da carrozziere rimane molto difficile ma sempre fattibile il nastro isolante perché molto elastico e quindi all'inizio fra un po di fatica può essere che con il nastro isolante dopo che dai due colpi non si è liberato ma si è allascato abbastanza da poter sfilare fuori il polso quindi nel caso il nastro isolante specialmente fa 10 o 12 giri potrebbe succedere che non riesce a romperlo del tutto ma quando si è dilattato abbastanza puoi comunque sfilare il polso rimane da dire che se per caso sei infascettato dietro la schiena ti devi sedere per terra in modo da far passare ok sfilare una gamba alla volta ti proprio ti sdrai per terra le tiri fuori e poi puoi fare il movimento è possibile a un certo livello fare la cosa anche sdraiati sul fianco ovviamente un po più difficile se sei in macchina dai un attimo un colpo di reni per staccare la schiena in modo che i gomiti possano andare indietro ma il principio rimane sempre lo stesso cerco di usare tutti i muscoli del corpo non solo le braccia ma anche le spalle non solo gli addominali ma anche i dorsali non solo la parte alta del tronco ma anche le gambe e la spinta del bacino grazie a tutti grazie a tutti